Ciao a tutti toretti e benvenuti in questo nuovissimo video Scusate che ho fatto tutta l'introduzione ma praticamente non ho parlato Allora siamo per il summit a fare un paio di cose Vediamo un po' se riesco a piazzarmi meglio Sono già nella zoo, cioè nei primi 3000 Però sapete manca ancora tanto a strada Perché mancano ancora, sto registrando di sabato quindi ora di mercoledì Dovremmo aver migliorato di parecchio, 9000, sì dovremmo aver migliorato di un pochettino Il massimo che ho fatto era 11700, sì non è che ho migliorato tantissimo Però secondo me un 2000 punti me li da 3000 punti, eh non male Ci ha dato anche dei pezzi Vi faccio vedere la classifica come si è messi, si è messi malissimo 3800, 39esimi Prima eravamo 4500 centesimi tipo E vabbè siamo 2400 seiesimi E dai ho migliorato più o meno un po' tutto Dai facciamo questa street race Però compriamo un'auto nuova Scorso video abbiamo preso la... Andiamo a casa No prima di andare al... Devo comprare l'auto Vediamo un po' i bundle Allora qui li montiamo già al pezzo che in casa poi ce l'ho Catalogo Prima di tutto no Voglio vedere... Ah cronologia... Ok Dovrei impostare... Vediamo perché... Ho anche le auto da... Queste qua sono al massimo, no Scegliamo quest'auto Ok Vediamo un po' i pezzi come è messa 230 Gli manca Ah ok Togliamo questi qua Ok Ci manca i pneumatici e la centralina Ah e anche i freni Vabbè qui raccogliamo Vediamo un po' cosa ci dà Sicuramente non è nei pneumatici Sospensioni Grazie mille Facevamo anche a meno dalle sospensioni Però ormai ce le date Allora per andare sui vei Catalogo Raggiungiamo quartier generale Vediamo I bundle Anzi no Infatti Non devo per forza venire qua Basta che vado Su news E guardiamo i bundle Semplice no? Senza star lì a fare tutte quelle cose Allora Abbiamo questo qua Questo qua è già in possesso Che cosa Vabbè non ce lo fa più vedere No vabbè questi non mi interessano E sto qua ci potrebbe stare Allora il concept L'avantage S Però boh se non ci servono Cosa li prendiamo a fare Mi chiederete Vabbè il prezzo è mezzo milione in meno Sì quest'oggi sarà una cosa più così tra i menu da sbirciare Anche se io vorrei fare un'auto Vediamo il summit Vediamo il prossimo Se intanto abbiamo tutto No Vediamo No ho sbagliato Allora BMW Ok La Golf Ok Touring card tedesca Power bot Ok 959 Allora tutte le parti le ho montate 280 ok Che sono magari Un po' basse Colore Ecco metallizzato O nera No bianca Ne girano un paio Però non metallizzate Standard Vabbè poi vedremo il colore Divrea anche Pezzi decorativi Iniziamo Da quel che ho sentito Non è Bella come auto Perché non ha sto granchie di cosa Infatti il cofano Vi lascerei questo La mascherina E' soltanto i fari Così Rally art Ok Anche a me qua Non sembra sto gran Personalizzazione Tosto la lascerei così Stock Anche qua Parafanghi Allarghi Ma Mi sembra un po' troppo E boh Vabbè Pinsa Almeno quella Gliela faccia a rossa Mi sembra un po' Strano Come configurazione Dell'auto Tosto la lascerei Proprio tutta stock Cioè vedete Sembra esagerata Non ha ste belle configurazioni Magari la lettone Eh no esagerata Vi lascerei ancora questo E' nero No Carbonio No Posteriore Speriamo ci sia qualcosa di interessante No Torno dietro Vabbè Almeno i cosi neri Così è un po' troppo E' un po' troppo esagerata Davvero Tipo anche questo Boh Cioè ci sta qualcosina di più Di personalizzazione Del tipo Allargare l'auto Non lo so Ok Me l'aspettavo davvero meglio Ma Vabbè Rivediamo un po' Il paraurti Cioè vedete Non è che C'è sta gran configurazione Cambiano un po' i fari E basta Cioè questo ci sta Però boh Sì ma deluso anche me A dire la verità Quasi quasi La lascerei Bianca Dai facciamogli Mettiamogli su qualche adesivo Qualche lineetta Boh che cavoli ne so Un po' troppe Eh Quella lì non era male Quella con i dettagli rossi Questa è un po' troppo Bello Anche questa Non sembra male Dai ci sta Un po' particolare Diversa dal solito E vanity Queste qua Fumo dai non mi va Di metterglielo E andiamo a farci una garetta Eh no dobbiamo uscire Allora guardiamo un po' Oltre alla gara Potenza 650 L'altra auto Che abbiamo fatto Ce l'ha messa Ah la prima 790 363 come velocità massima Questa qua cos'è? Ah c'è anche la Mustang Da fare Vero? 363 Vabbè tutte 363 Allora arrivano Vediamo un po' Eh faccia le garette nuove Anche se so già che Vabbè stravinceremo Come minimo Perché Vabbè non c'è nessuno Facciamo questa qua Se caso Non mi ricordo neanche quale sia Boh No comunque Dai la libreria non è male Magari qualche cosina dietro ci stava Però per i cavalli che ha Qualcosina di più mi aspettavo Vediamo dai Riktipe Ok ok dai Rocket K VKZ Se incontro Auto miste Ok E questa qua è l'ideale La Porsche Dovrebbe essere l'auto più veloce Delle super Delle street race Si Mentre le altre sono Si è una street race Che non ho E anche la Lamborghini Grazie La Huracan manca Quella base Con la performante Magari La dovrei Sbloccare Non so se magari Già oggi E' mercoledì Quando uscirà questo video Boh Magari Farò un post Al riguardo Si scusate per settimana scorsa Che non ho avuto molto tempo Per portare video Cioè Ce li avevo già pronti Dovevo soltanto editarli E caricarli Ma Piego una vita Cioè ho impiegato una vita Drifta un sacco Per il fatto della trazione posteriore Teoria dovrebbe essere Un buon integrale Fatemi sapere un po' Voi cosa Che magari Ne sapete un po' Di più Però boh La Mitsubishi La Evo Magari è la versione Standard E l'altra è integrale Però questa qui No Quanto pare È posteriore È da Drift Si poi che non ho capito Il fatto di Realizzare due Due Lancer Cioè Non avevano Non sapevano su che altra auto Farla Penso Boh Perché c'è la Cioè piuttosto Mettete che non volete Far modelli nuovi E fin lì ci può anche stare Boh Fate una Giulia Che vabbè Magari non se la incula nessuno O una Skyline Vecchia Ci sta Senza star lì a fare due volte La Mitsubishi La Lancer Tipo la versione rossa E la versione nera Che Non so quanto più potenti Possano essere Si saranno più potenti Però Cioè vedete Si perde Via subito Fortuna che eravamo davanti Eh un secondo e set Non è che siamo poi così veloci Volendo potremmo fare quelle nuove Che vabbè anche questa Non conosco il tracciato Però in quelle nuove Eravamo molto più avvantaggiati Ma tanto di più E a proposito delle altre gare L'idea Una cosa bella Per poter vincere la Lamborghini Sarebbe di comprare Le Le auto La street racing Più veloci Che potrebbe essere appunto La Porsche Però Boh Mi sembra un spreco di soldi Perché magari usciranno Con i bundle Soprattutto Esatto Ah Cos'è che è Settimana prossima No Tra due settimane C'è il costo della Della Porsche Il summit della Porsche E quindi magari faranno qualcosa Stile tedesco Tra i bundle Boh Non ho la più pallida idea Io comunque andrò avanti Perché Costantemente Per tenermi avanti Perché non voglio Essere fregato all'ultimo Che C'è fregato all'ultimo Stare all'ultimo A fare mille e mila gare Perché non mi sono qualificato C'è Perché non sono tra i pini 3000 Ecco Perché non mi sono